Sapete che c'è il bullismo voi? No So, ma mi hai sentito dire che ci sono ragazzi che vanno in cerca di prenderti altri colleghi per i telefonini eccetera No Sì sì, lo so con la mia esperienza personale No Per esempio ci sono dei ragazzi un mese sette o fa che venivano qua a molestare i vecchi a buttare le bici per terra, a schizzarli con una schiuma? No Certo è quel bullismo, non lo so perché Mi facci altre domande allora io ti rispondo No È il frutto della società in questo momento I ragazzi che perdono determinati valori e seguono esempi sbagliati a volte della stessa società quindi la società a volte dà degli esempi che non sono il massimo e quindi che non sono giusti, sbagliati e che vengono seguiti No Sport E il bullismo accende giovani diciamo così che vanno sulle moto, motorini che danno fastidia alla cittadinanza? No Stiamo un po' tutti nella merda qua a Dania perché è diventato proprio un paese invivibile No Cioè che dei ragazzi ce l'hanno con gli altri ragazzi? No No Sport E il bullismo è roba dei giovani che fanno i bulli Il bullismo, insomma No No Sport E' un insieme di fenomeni soprattutto sviluppato tra gli adolescenti, i bambini che tendono ad esercitare una sorta di potere tra i loro coetanei quindi atti vandalici, di tepismo No No Sport Secondo lei ad Andria abbiamo questi fenomeni? Ma questi fenomeni sono dappertutto Nella quantità c'è la qualità Sì sì Ma il problema dei giovani, ne sono tanti ce ne sono Ma è questione dell'amministrazione è che si deve svegliarsi un po' verso dei giovani Insomma a volte si vedono, a volte non si vedono Devono controllarli, se non li controllano Certamente uno si la mette in tasca, va nel campo, si fa va a birra e poi comincia a fare tutto quello che vuole Troppi giovani che fanno i fatti loro e nessuno li ferma Sì, noi lo vediamo qui ad Andria Io per me non lo so, non so dire Guarda io cammino con la macchina e non vedo niente io Diciamo un centinaio Secondo lei lo sport può essere un buon modo per incentivare i giovani a non praticare atti di bullismo? È giusto Io sono anche io sportivo Sicuramente sì, come tutto ciò che è aggregazione La musica, lo sport e tutto ciò che aggrega effettivamente può portare sicuramente a staccarsi dalla prepotenza o da tutte queste cose qui negative dagli altri I valori chiaramente sono fondamentali, se la famiglia dà i valori ma non basta perché anche la società deve comunque aiutare Sì Il migliore sarebbe quello lo sport per incentivare i ragazzi a disassarsi dall'alcol ma a fare sport in modo che anche roba di superfacente Diciamo la droga, la roba lei di lasciare quel campo lì e prendere il campo dello sport perché è molto utile Sì, può darsi Forse sì o forse no, dipende, c'è dai ragazzi Sì, sì, si può combattere perché lo sport vi porta diciamo la pace, la sicurezza, l'intelligenza anche Non frequentando queste sedi si arriva sempre diciamo con i gruppi scalmanati Quindi uno attaccano tutti quanti perché è come un gruppo di cani, basta che uno si stacca, si stacca anche loro e quindi diventa il bullismo Perché è un modo per poter insegnare ai bambini sin da piccoli a rispettare delle regole, degli orari, dei determinati comportamenti da tenere soprattutto in un gruppo e quindi in una comunità Ha combattuto con dei mezzi un po' più severi per i ragazzi sull'età dai 12 ai 15 anni Conosce Vito di Bari? Non lo conosco Secondo lei, dal nome, è un bullo di strada, è un bullo di sport? È un bullo di sport E le spiego, è un atleta, andriese, deve essere un esempio per tutti i giovani per combattere il bullismo Che cos'è il bullismo? Sport Vuoi fare un appello ai tuoi coetanei per incitarli a fare sport e per evitare di stare in strada, insomma, a compierati di bullismo? Sì, vabbè, sono contro il bullismo naturalmente, quindi invito tutti a non essere bulli, naturalmente Secondo voi, il modo migliore per combattere questo bullismo, quale può essere? Forse far capire che il modo migliore non è la violenza, ma forse anche solo parlarne